Vincitrice dell'ottava edizione di Amici di Maria De Filippi, da quel momento è diventata la donna dei record. Sette album tutti piazzati alla numero uno, tantissimi dischi di platino. I suoi tour fanno sempre il tutto esaurito, tant'è che l'anno scorso ha fatto il suo primo evento a San Siro. Ma da un anno a questa parte la sua vita è diventata un meme. Oggi parleremo di Alessandra Moroso. Ciao ragazzi, eccoci finalmente arrivati con un nuovissimo video. Spilling the Tea with me, Cristiano Cervigni. Perché stavo per dire Cristina 91? Oggi, come Dante prima, Spilling the Tea dedicato ai drama, in quanto parleremo del drama di Alessandra Moroso. Perché direte voi? Perché in questi giorni è tornata virale, con dei meme più o meno offensivi. E quindi, siccome volevo stare in vostra compagnia, facciamo un recap di tutto quello che è stata la sua vita, da quando è diventata famosa, fino al bullismo ricevuto e a tutti i meme. Li ripercorremo passo passo. Quindi, vi consiglio di mettervi comodi, andare a prendere il vostro snack o bevanda preferita. Mettete mi piace a questo video, mi raccomando. E fatemi sapere se, come i bookmakers, anche secondo voi, Aleamo vincerà Sanremo 2024. Sorso iniziale, direi che possiamo iniziare prima, però, lo so che vi siete accorti di questa nuova location. Non lo so, è un po' scomoda, fatemi sapere cosa ne pensate, ma ho pensato di fare i video statici qua, ok? Se poi vi piacciono, continuerò così con questo andato, dato che siamo in periodo natalizio, se no, si ritorna in camera. Ma veniamo a noi. Alessandra Moroso nasce il 12 agosto del 1986 a Galatina, in provincia di Lecce, e poi si trasferirà a Lecce Città, dove crescerà. Lei diventa famosa qua in Italia perché partecipa ad Amici 2008-2009, l'ottava edizione, quella insieme a Valerio Scanu. E, sorprendentemente, riesce a portarsi a casa il premio, il primo premio, e quindi la vittoria del programma. Dico sorprendentemente perché io me la ricordo, quell'edizione, io all'epoca lo guardavo ancora assiduamente Amici, e per tutto l'anno scolastico Valerio Scanu era stato numero uno settimana dopo settimana nella graduatoria delle preferenze del pubblico, con Alessandra comunque molto più in basso. Ma con l'uscita del suo primo inedito, Immobile, che entrerà nella storia perché è stato il primo inedito dei personaggi di Amici ad andare alla numero uno dei singoli più venduti in Italia, piano piano, 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 inizia la sua rimonta fino a quando, nella finale, riuscirà a vincere. Dalla vittoria di Amici, un successo dietro l'altro. Infatti, il suo EP, appena uscito, milioni, no, 4 dischi di platino, riuscirà a fare, anche il singolo Stupida arriverà direttamente alla numero uno dei singoli, e da lì, anno dopo anno, ogni suo album debuterà direttamente in cima alla classifica Fimi. Il successo di Alessandra Amoroso, ragazzi, magari voi siete un po' più giovani, quindi la conoscete solo tramite i meme di oggi, si può paragonare a, boh, Laura Pausini su Per Giù, perché veramente prima di lei mancava una donna che riempisse i palazzetti con i concerti, che andasse sempre numero uno, che vincesse sempre dischi di platino, che facesse firma copie con migliaia e migliaia di persone. Insomma, fin dai primi singoli, il pubblico ha accolto Ale Amo con un amore incredibile, tant'è che creano la Big Family. La Big Family non è altro che il fan club di Alessandra Amoroso, ma è stato, e lo è tutt'oggi, uno dei più forti in Italia. E possiamo anche constatare il successo di Alessandra Amoroso ha cambiato le sorti del programma Amici, anche perché dopo di lei le case discografiche hanno iniziato ad essere un po' più partecipi verso il programma e verso i concorrenti, e infatti negli anni successivi sono poi usciti Emma Marrone, Anna Lisa, i The Colors. Insomma, siamo tutti d'accordo che c'è stato un avanti Alessandra Amoroso e un dopo Alessandra Amoroso, anche se questo cambiamento da parte delle case discografiche era già iniziato con Marco Carta. Mi sembra o un anno prima o due anni prima della vittoria di Alessandra, perché Marco Carta è stato il primissimo ad avere successo al di fuori del programma, ma anche nelle classifiche. Ma la prima ad arrivare alla numero uno fu proprio Alessandra Amoroso. Tanto fu il successo che addirittura nel 2015 uscì il primo album di Alessandra in spagnolo, in cui appunto aveva una specie di greatest hits, con tutti i successi più famosi di Alessandra da quando uscì da Amici fino al 2015, però tradotti in spagnolo. E anche quest'album fu un mega successo, soprattutto in Spagna e in Messico, soprattutto radiofonicamente parlando. Ad oggi, al momento, altri album in spagnolo non ce ne sono, però comunque il suo successo, anche qua in Italia, non è mai stato un up and down, è sempre stato un up. Infatti collaborerà con tantissimi artisti italiani, come Biagio Antonacci, Tiziano Ferro addirittura le farà l'album Amore Puro, collaborerà con Francesco Renga, con la stessa Emma Marrone. Insomma, anno dopo anno, il successo di Alessandra sembra inarrestabile. Tant'è che nemmeno il Covid la ferma, perché nel 2020, insieme ai Bundabash, pubblica il singolo, che io penso sia il più di successo suo, della sua carriera fino ad oggi, Karaoke, che diventerà appunto la canzone più ascoltata, più streammata e più venduta di tutto l'anno. Una menzione speciale, secondo me, dobbiamo farla per vivere a colori. Il suo album del 2016, uscito a gennaio 2016, che le ha dato una grande mano, e secondo me è stato il suo album più bello, e in questo album collaborerà poi anche con Elisa, perché le scriverà appunto molte canzoni, tra cui anche Comunque Andare. Voglio fare questa menzione perché io vi faccio una confessione, che non è un segreto, perché se mi seguite da tempo lo sapete, io fin dall'inizio sono stato fan di Alessandra, tant'è che nel 2016 sono stato al concerto al Mandela Forum a Firenze, e qui abbiamo le prove. sul mio Instagram ci feci anche un vlog, tipo non andate a un concerto di Alessandra Amoroso se siete tristi o qualcosa del genere, e poi addirittura sono andato anche al suo concerto a San Siro, qua a Milano nel 2022. Insomma, io ho sempre amato Alessandra Amoroso, l'ho sempre supportata perché ho comprato tutti i suoi album, a parte gli ultimi due, e sì, è stata parte della mia vita e la ringrazierò per questo, ma non tutto è oro quel che luccica, perché il 27 giugno 2022 lei se lo ricorderà, io penso, per sempre, per tutta la sua vita. Cosa successe il 27 giugno del 2022? C'erano le registrazioni del programma Team Summer Hits, che sarebbe tipo Battiti Live, che sarebbe tipo il vecchio Festival Bar, praticamente è un programma che andava su Italia 1, mi sembra, in estate, e veniva registrato in varie città d'Italia, nelle piazze, in cui i cantanti che avevano avuto successo in quel periodo, si esibivano, ok? E facevano quindi il tour insieme a questo programma, per tutta l'estate, e poi veniva mandato anche in onda in televisione. Allora, 27 giugno 2022, ci sono le registrazioni del Team Summer Hits a Roma, più precisamente in Piazza del Popolo, e qua succederà una cosa che farà cambiare la vita in peggio ad Alessandra Moroso. Perché, direte voi, ma che è successo? Ha cantato male? Ha fatto una canzone brutta? È caduta dal parco e si è rotta una gamba? No, speriamo non succeda mai, per l'amor di Dio. Succede che, dopo le prove, lei va nel backstage, e lì ci sono un po' di fan che la chiamano e la clamano, e una in particolare le mostra un cuscino e le chiede un autografo. Alessandra Moroso risponderà così. La questione è che se lo faccio per te, poi gli altri ci rimangono male, e io queste cose non sono abituata a farle. La questione è che se lo faccio per te, poi gli altri ci rimangono male. E io queste cose non sono abituata. No, 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 no. Tutto bello, tutto carino, vabbè, magari, direte voi, aveva fretta, magari l'hanno portata via i bodyguard perché aveva da fare. Comunque, è una cosa che può succedere, e tutto sarebbe finito lì, se non che questa scena è stata ripresa e pubblicata su TikTok. Questo video in pochissime ore fa il giro d'Italia, diventa super virale, e possiamo dire che, per via del mancato autografo fatto al cuscino della fan, inizia una super mega shitstorm da parte dell'Italia intera verso Alessandra Moroso, colpevole di aver deluso una fan non autografandole il cuscino. Possiamo chiamare questo periodo il cuscino gate perché veramente, e penso ve lo ricordiate perché è successo praticamente l'anno scorso, da questo momento Alessandra Moroso è bersagliata, è tartassata di commenti, sia sui suoi social, sia ogni blog o sito che parlava di lei, nei commenti c'erano solo haters che la chiamavano, per esempio, Alessandra Nervoso, Alessandra Rabbioso, moltissime sono anche le offese personali, moltissime sono anche addirittura le minacce di morte, tant'è che Alessandra Moroso fin da subito cerca un attimo di mettere una pezza a questa roba pubblicando dei tweet rispondendo appunto alla polemica. Lei scriverà questo. Venerdì ero in Piazza del Popolo per il Team Summer Heads. Dopo le prove, come faccio sempre, sono scesa a salutare tutte le persone del pubblico nella breve pausa tra le mie prove e quelle dell'artista successivo. Mi è stato chiesto di autografare alcuni oggetti, ma, considerato il poco tempo e la tanta gente, sapevo che non avrei potuto fare autografia a tutti coloro che lo avrebbero chiesto e in più avrei rischiato di non riuscire a salutare tutti. Nel rispetto di tutte le persone del pubblico e degli artisti che di lì a breve avrebbero fatto le prove sul palco, ho preferito dedicare quel tempo a scambiare qualche chiacchiera con più persone possibili, anche per evitare di scontentare chi non avrebbe ricevuto un autografo. Come sempre, ho fatto tutto mettendo al primo posto l'amore e rispetto per la gente. Non ho mai dimenticato e mai dimenticherò che è grazie alla gente che mi ha sostenuta in questi anni che faccio questo lavoro e sarò per sempre grata al pubblico. Sempre. Fate entrare l'amore, tutto quest'odio che state facendo girare non fa bene, credetemi, me l'ha detto nonna. E con queste parole Alessandra Amoroso dice la sua, dicendo appunto guardate, non è come state credendo o come è stato strumentalizzato. Io non ho voluto fare quell'autografo perché appunto il tempo era poco, non potevo stare nel mezzo agli altri e invece di fare un autografo dato che le persone erano tante e poi scontentare tutti ho preferito stare lì in loro compagnia per parlare. E ragazze e ragazzi forse sarà perché essere un po' anziano vale molto di più una frase, una parola, uno scambio di battute con il proprio artista preferito piuttosto che un autografo che poi torni a casa chissà che fine fa. Ma con queste dichiarazioni la polemica non finisce ma anzi si ingigantisce ancora di più perché le persone continuano ad offendere Alessandra Moroso e ogni volta che per esempio esce una notizia che la riguarda per esempio l'uscita di una sua canzone le persone commentano non posso ascoltare la tua canzone se no gli altri ci rimangono male. Quando escono le date del suo tour le persone accorrono in massa a commentare le date scrivendo non posso comprare il tuo biglietto e venire al tuo concerto se no tutti gli altri cantanti ci rimangono male. Insomma è innegabile che Ale Amo è stata presa di mira. Le polemiche sono solo all'inizio perché nei mesi successivi uscirà una parodia di una sua canzone. Ve la ricordate la sua canzone Camera 209 che inizia così? Mi steglio ancora truccata! E poi tutto il resto della canzone? Bene qualcuno aveva deciso di fare una parodia di questa canzone pubblicandola su YouTube e qualcun altro ha estrapolato questa prima frase dove ovviamente al posto di truccata c'era la famosissima cacata e quindi è diventata mi sveglio ancora cacata! E lo ha pubblicato su Twitter prima e poi su TikTok facendo diventare viralissimo questo meme facendo diventare viralissima la canzone però la canzone modificata. mi sveglio ancora cacata mal di testa e ovviamente sotto tutti questi meme i commenti dove viene presa in giro Alessandra Amoroso non si contano più perché sono veramente migliaia e migliaia tant'è che addirittura la Big Family di cui abbiamo parlato all'inizio quindi il fan club di Alessandra Amoroso decide di correre i pari prima pubblicando questo la Big Family è contro il cyberbullismo il mondo del web è non sempre bello i contenuti che si stanno diffondendo sui social riguardo Alessandra Amoroso sono assolutamente inaccettabili meme video e canzoni editate per loro semplici leggerezze per noi contenuti di basso livello vi chiediamo di segnalare via mail i video audio o altro contenuto che ha per oggetto Alessandra il nostro team è pronto a segnalare i contenuti alle piattaforme e a chi di competenza e poi sempre a Big Family siccome appunto questo odio verso Alessandra Amoroso da parte degli haters stava veramente diventando gigantesco decide di creare a loro volta dei video da mandare su TikTok soprattutto in cui loro raccontano cosa era per loro Alessandra Amoroso loro pubblicavano tutte le volte che Alessandra Amoroso era stata super paziente super gentile super simpatica con i fan e fanno anche dei collage insomma in cui vari fan esprimono il loro supporto Alessandra Amoroso questi video però ovviamente come succede sempre non hanno l'effetto sperato ma anzi vengono presi in giro anche loro e diventano anche loro dei meme viventi ora la situazione è un po' delicata perché da una parte a questo punto ci sono tutte le persone che ridendo scherzando creando anche i meme dicono che questi meme sono dei meme fatti per ridere per scherzare e che in realtà non vogliono offendere l'artista in particolare mentre dall'altra parte ci sono i fan di Alessandra Amoroso che accusano i creatori dei meme di fare bullismo di fare cyberbullismo verso Alessandra Amoroso e di farla star male e soprattutto di alimentare un odio anche perché i commenti ragazzi erano visibili a tutti non c'era solo quello che rideva e diceva ah 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 anch'io mi sveglio cacata ma c'era anche quella che offendeva personalmente Alessandra Amoroso e gli scriveva le peggio cose e la teoria dei fan che tutto questo era si era tramutato in cyberbullismo veniva ancora più alimentata forse inconsciamente perché Alessandra Amoroso si chiude in un silenzio stampa lei non dice più niente riguardante tutta questa storia ma iniziano ad esserci delle voci di corridoio voci che vorrebbero Alessandra Amoroso andare a denunciare alla polizia postale tutti questi meme voci che poi vengono smentite direttamente o indirettamente insomma in tutto questo Alessandra Amoroso lentamente sparisce dalle scene e lascia gli altri parlare e prenderla in giro voi direte vabbè ma i meme sono fatti così durano una settimana e poi chi se ne frega avanti il prossimo no ragazzi perché vi ho detto che siamo solo all'inizio perché nel frattempo sbuca sbuca in internet su tiktok un video che ritrai sempre Alessandra Amoroso che incontra i fan questa fan le regala prima un un palloncino e poi una lettera e Alessandra Amoroso ricevendo questa lettera risponderà che leggerò stai tranquilla è serena ti ringrazio grazie amore che assolutamente leggerò stai tranquilla serena e ti ringrazio tanto grazie a te ora ragazzi la prende e se ne va normalmente questa è una conversazione normale quando te ricevi una lettera è normale che dici vabbè la leggerò a casa non ti preoccupare ma siccome stiamo parlando di Alessandra Amoroso siccome Alessandra Amoroso è nel pieno del vortice delle critiche riguardanti soprattutto il mancato autografo fatto al cuscino e quindi tutti avevano iniziato a pensare che Alessandra Amoroso fosse antepatica fosse poco umile fosse poco disponibile i suoi fan questo video viene preso e strumentalizzato e viene tradotto con il stai prendendo in giro la fan e quindi insieme a tutti i commenti che storpiano il cognome di Alessandra insieme a tutti i meme mi sveglio ancora cacata insieme a tutti i commenti non posso venire al tuo concerto se no gli altri cantanti ci rimangono male arrivano anche i commenti del uscita la tua canzone sicuramente l'ascolterò stai tranquilla e serena è uscita la data del tuo tour non ti preoccupare comprerò i tuoi biglietti stai tranquilla e serena insomma la macchina dell'odio e delle prese in giro ha raggiunto delle vette che l'Everest via proprio e i fan quindi la big family continua imperterrita comunque a provare a difendere la propria beniamina ma con scarsi risultati in tutto questo però comunque Alessandra si fa a luglio 2022 San Siro e quindi mega successo dopo San Siro partirà per un tour che anche quello comunque nonostante le critiche nonostante i commenti poco lusinghieri sui social ha un grande successo oltre questo Alessandra dopo il tour sparisce completamente dalla circolazione sparisce dai social sparisce da qualsiasi posto non si fa più vedere e questo preoccupa i fan e quindi ritorna in auge il dibattito ma tutti questi meme tutte queste parodie tutte queste prese in giro sono ironia o è vero e proprio bullismo verso una ragazza io vorrei a mia volta porvi questa domanda perché vorrei sapere come l'avete intesa voi tutta questa situazione e vorrei che mi scriviate qua sotto tramite commento se voi al posto di Alessandra avreste fatto come lei o avreste cavalcato l'onda dei meme scherzandoci sopra come per esempio fa Gerry Scotti io ho un'idea ben precisa ma ve lo dico alla fine perché non è finita qua in tutto il 2023 di Alessandra Amoroso non si sa niente fino a qualche settimana fa quando il suo nome ha iniziato a circolare tra i papabili partecipanti di Sanremo del 2024 questi erano solo rumors moltissimi dicevano sta aspettando Sanremo per ritornare per avere un attimo la sua vendetta no e di vendetta ne parleremo a brevissimo tranquilli fatto sta che il nome di Alessandra Amoroso è stato fatto da Amadeus direttamente al TG1 proprio scorsa settimana e quindi Ale Amo comparirà tra i big del prossimo Sanremo ragazzi nel 2023 i meme su Alessandra Amoroso quello mi sveglio ancora cacata quello stai tranquilla e serena quello non posso venire ai tuoi concerti se no gli altri ci rimangono male erano diciamo un po' ovviamente scemati erano non erano più virali anche se qualcuno imperterrito continua tutt'oggi a dire queste cose sotto qualsiasi notizia su Alessandra Amoroso il fatto è che con la notizia della partecipazione al festival di Sanremo ritornano nuovi meme vengono fatti e praticamente sono viralissimi adesso in questo momento soprattutto tre meme ma questi meme sono diversi nel senso io non ci vedo più cattiveria bullismo cyberbullismo e offese ma ci vedo anzi una specie di rivincita ok in quanto il primo meme addirittura è stato ripostato anche da Alessandra è stato anche usato da lei perché riguarda un suo audio estrapolato durante un concerto mentre lei canta stupendo fino a qui che è una delle mie canzoni preferite quindi io sono contentissimo che sia diventata virale finalmente al successo che merita in questa canzone lei fa così perché io vivo ogni secondo come l'ultimo secondo io credo in poche cose ma ci credo fino in fondo io amo irresponsabilmente tanto che non riesco a smettere insomma il meme è io è l'io detto in proprio in questo modo e quindi moltissimi utenti su tiktok hanno ripreso questo audio facendo varie scenette della loro vita quotidiana questo audio è stato ripreso anche da lei sui suoi social perché ragazzi e ragazzi il suo instagram proprio in questi giorni ha un cambio repentino cancellerà tutti i suoi post pubblicati fino a questo momento e ne pubblicherà almeno fino ad ora che sto registrando due e sono questi qua vi sembra che può assomigliare a qualcun altro ad un'era molto famosa di un artista molto famosa americana questo instagram queste foto e tutto questo alone di mistero non solo io ma in molti lo hanno paragonato alla reputation era di taylor swift dobbiamo aprire una breve parentesi ragazzi perché se voi non seguite taylor swift significa che non possiamo mai essere amici e soprattutto cosa ci fate qui andate via io non posso parlare con chi non ama taylor swift fatto sta che taylor swift negli anni ha avuto molti dispiaceri oltre a tutti i suoi successi e uno dei tanti gli è stato dato appunto da Kanye West Kanye West ha un rapporto di amore e odio con taylor swift sfociato nel 2008 se non mi sbaglio agli mtv video music awards quando taylor swift vince il suo primissimo premio dei video music awards come best female video o best pop video qualcosa del genere insomma vince in una categoria con you belong with me una sua canzone e quando lei va a ritirare il suo premio Kanye West la interrompe sale sul palco dicendo guarda ti lascerò finire ma non ti meritavi questo premio perché Beyonce ha il miglior video dell'anno e si parlava di single ladies da qui inizia una shitstorm verso Kanye West soprattutto in America perché ha fatto una osa e da qui inizia anche un rapporto diciamo un po' di odio tra Kanye West e taylor swift tant'è che Kanye West poi si sposa con kim kardashian anche kim kardashian era contro taylor swift insomma di questo di tutta questa storia che è un'epopea lunghissima con tantissimi colpi di scena ne parla benissimo Iris Babilonia ragazzi dateli a vedere perché vi farete veramente una cultura cultura del pop fatto sta che taylor swift per vendicarsi di tutto l'odio che aveva ricevuto da parte di Kanye West di kim kardashian e dei loro fan del fatto che la chiamavano serpe che tutti avevano iniziato a commentare con i vari con le moti con dei vari serpenti perché appunto lei era cattiva come una serpe secondo gli altri esce sorprende tutti con reputation il suo album secondo me il migliore è stato un po' il blackout di britney spears reputation di taylor swift e quindi diciamo che reputation per taylor swift è stato il suo revenge album il suo album della vendetta in cui sono cambiate letteralmente tutte le situazioni possibili ma già a parte il mega successo e a parte tutto però insomma con questo album taylor swift ha in poche parole preso una cosa che stava andando contro di lei e l'ha trasformata ci ha monetizzato sopra e l'ha portata a cambiare una cosa negativa in una cosa super positiva per lei cambiando anche la sua reputation appunto e questo anche se comunque un po' più ridimensionato in molti l'hanno paragonato a alessandra amoroso a sanremo a alessandra amoroso con questi post con le fotografie molto simili come stile alla taylor swift di reputation e quindi in moltissimi hanno iniziato ad aspettarsi a richiedere una reputation era da parte di alessandra amoroso e oltre quindi al meme di stupendo fino a qui di cui abbiamo parlato qualche minuto fa sono usciti altri due meme due canzoni che fanno parte dell'album reputation di taylor swift sono state create con l'intelligenza artificiale con la voce di alessandra amoroso in italiano e mandate online sto parlando di look what you make me do e are you ready for it dove queste canzoni soprattutto look what you make me do si ripercorre un po' i meme quelli di cacata e tutto quanto ma io non ci ho visto odio in questi nuovi meme ma ci ho visto una specie di sostegno da parte della gen z ok perché noi ci scordiamo noi vecchietti noi millennials e anche poi boomer che la gen z la generazione z ha un modo di sostenere i propri artisti o di scherzare o di parlare di una determinata cosa in modo completamente diverso io ho visto moltissimi ragazzini usare meme ma non come presa in giro ma come sostegno come ammirazione e infatti ho tradotto queste due canzoni do you make me do are you ready for it come una specie di rivincita perché è vero che sono meme è vero che si riparla di mi sveglio ancora cacata e tutto quanto ma è come se si fosse chiuso una porta e se andrete ad ascoltare queste canzoni ve ne accorgerete anche voi e per prepararsi alla vendetta di Alessandra Amoroso e infatti i commenti sotto questi video sono totalmente diversi dai quelli dell'anno scorso perché ci sono tantissime persone che la sostengono tantissime persone che sono divertiti da questi meme ma bonariamente ragazzi ok molti aspettano Alessandra Amoroso a Sanremo la porteranno alla vittoria dicono e paragonando Alessandra Amoroso addirittura come la nostra Taylor Swift italiana secondo me è soltanto che una forma di elogio perché arrabbiati che ti hanno paragonato a Taylor Swift ma siamo pazzi è impossibile nonostante questo alcuni dei suoi fan non l'hanno presa bene ovviamente perché continuano a vedere in questi meme un'ondata di odio e un'ondata di critiche prese in giro e affossamenti verso la loro beniamina ognuno ovviamente la può prendere come gli pare solo Alessandra Amoroso ci può dire se anche con questi nuovi meme c'è rimasta male oppure no però io almeno dal mio punto di vista penso che i primi meme dell'anno scorso sì sono lei ha avuto veramente un'ondata di odio pazzesco e quindi ha avuto anche molto cyberbullismo e quindi posso capire che ci sia rimasta male perché è stata una cosa assurda e abominevole ma anche grandissima eh ragazzi lei non era più Alessandra Amoroso lei era mi sveglio ancora cacata ok oppure era Alessandra rancoroso era Alessandra nervoso era tutto questo dall'altra parte però con questi nuovi meme io vedo speranza io vedo che la situazione è cambiata nel senso non c'è più non vedo più odio verso di lei ma vedo anzi una specie di parodia sì ma grazie a questa ironia innanzitutto lei diventa virale e quindi viene conosciuta anche dalle nuove generazioni per le canzoni vedete poi stupendo fino a qui ma ci vedo anche una specie di sostegno e quindi il Sanremo di Alessandra amoroso potrebbe essere la sua reputation era e penso che adesso anche la sua casa discografica le avrà detto giocaci un po' su questo fatto perché veramente io ci vedo un po' di somiglianze stilisticamente nelle fotografie che ha pubblicato con reputation di Taylor Swift quindi che finalmente abbia accantonato le prese in giro le prese a male e abbia deciso di cambiare totalmente la sua immagine verso appunto il pubblico che l'ha presa in giro e l'ha offesa durante questi mesi cercando di cavalcare l'onda di questi meme per far sì che gli altri pensano o credano o capiscano finalmente che lei è simpatica e non è quella che hanno descritto fino a questo momento non lo so ragazzi e ragazzi lo scopriremo solo vivendo lo scopriremo a Sanremo io spero che durante il giorno della giornata delle cover lei faccia come cover lo quace un make me do di Taylor Swift quello sarebbe uno scacco matto incredibile e la porterebbe alla vittoria immaginatevi lei che durante Sanremo le cover la giornata del cover che è il giovedì mi sembra o il venerdì spiazza tutti e fa lo quace un meme che è diventata un meme adesso super virale ragazzi ma vi devo raccontare io come funziona il marketing il business diventerebbe ancora più virale e porterebbe tantissimi voti vabbè però vedremo io non sono un discografico io non sono Alessandro Amoroso io non sono nessuno vi volevo semplicemente raccontare tutta questa storia tutto il drama di Ale Amo fino a questo momento è successo questo fatemi sapere voi qua sotto tramite commento adesso tutto quello che vi ho chiesto se secondo voi questi meme sono ironia o sono bullismo e soprattutto se mi sono perso qualcosa perché può darsi raga sto parlando sì ma poi mi vengono sempre in mente dopo le ose scrivete tutto qua sotto perché così almeno possiamo discutere insieme e magari le persone che leggono i commenti possono scoprire nuove cose adesso siamo arrivati alla fine i bookmakers ripeto danno per favorita Alessandro Amoroso e io non la voglio tirà quindi non dico nulla però bookmakers fatevi l'affaracci vostri fatemi sapere tutto quello che volete appunto ripeto mettetevi piace a questo video se vi è piaciuto se vi ha insegnato qualcosa che non sapevate o se comunque vi ha intrattenuto iscrivete al mio canale se ancora non l'avete fatto per oggi è tutto ci vediamo domani con un nuovissimo video ciao